Condanna a due anni, due mesi e venti giorni per il minorenne nisseno accusato di aver istigato al suicidio il giovane di Caltanissetta Mirko Lamedola, che si tolse la vita il 25 agosto dello scorso anno sulla spiaggia di Porto Empedocle, rivolgendo contro di sé una pistola nella sua disponibilità ed esplodendo un colpo che risultò fatale. Così ha deciso il Tribunale dei Minori di Palermo, competente sul territorio di Agrigento. I giudici hanno riconosciuto la sospensione condizionale della pena e in conseguenza di ciò hanno anche disposto la scarcerazione dell'imputato, che era detenuto all'istituto penale minorile di Palermo. La Procura dei Minori del capoluogo regionale aveva chiesto la condanna a sei anni, mentre gli avvocati difensori Calogero Buscarino e Gaetano Giunta avevano insistito per l'assoluzione. Secondo l'accusa sulla mendola, che aveva 25 anni, aveva pesato il fatto di non avere superato i test per l'ammissione in polizia e aveva deciso di farla finita. In questo contesto si inserisce, secondo la ricostruzione dei magistrati e dei carabinieri, il ruolo del minorenne, il quale, sempre secondo l'accusa, aveva aiutato l'amico a mettere in atto il suo proposito e ciò emergerebbe da alcuni messaggi scambiati tra i due. La vicenda aveva suscitato sorprese e commozione in città. Fin dal primo momento i familiari della vittima avevano chiesto che fosse fatta piena luce sulla vicenda. La costituzione di parte civile non è prevista nel processo minorile, ma la famiglia, tramite il proprio legale, l'avvocato Rosario Didato, aveva fatto eseguire delle indagini difensive che hanno contribuito a ricostruire il quadro accusatorio. La motivazione della sentenza sarà depositata entro tre mesi, probabile un nuovo capitolo in corte d'appello.